IBM si presenta a Sonora di Francoforte con diversi tipi di prodotti. Parliamo di strategia, parliamo di tecnologie, parliamo di soluzioni. Parliamo di visualizzare dei veicoli nel retail, quindi nei negozi e nei punti di vendita, ma anche come fare trasformazione a livello industriale, trasformando i processi, per esempio, di assistenza, di manutenzione. Tutto questo è possibile tramite la realtà virtuale e la realtà aumentata. I cambiamenti sono molteplici. La moltiplicazione dei punti di contatto, la possibilità di visualizzare la macchina prima di acquistarla, la possibilità di guardare in tempo reale la configurazione e capire, per esempio, se il sedile posteriore del passeggero è abbastanza grande per poter contenere un passeggino o tutta la famiglia. È possibile, per esempio, far provare la macchina alla moglie o ai figli prima di comprarla. È possibile, per esempio, effettuare un virtual test drive. Ci sono delle statistiche che dicono che il 74% degli utenti ha preso in considerazione di fare tutto il processo d'acquisto della macchina online, ma l'88% degli utenti vuole fare un test drive, non comprerebbe mai una macchina senza fare un test drive.